Quali sono le caratteristiche che la sua squadra deve avere per riuscire a far bene in una manifestazione di questo tipo, con queste peculiarità dall'altra parte del mondo? Proprio così, ma sono due momenti diversi. Il primo momento che se fai bene poi ti dà accesso al secondo momento è quello della pool e lì bisogna fare da subito molta attenzione, partire forte perché in pool così breve non hai tante possibilità di recupero. E poi dopo se tu sei bravo c'è il secondo momento che è quello esaltante, in questa manifestazione da questo punto di vista qui è molto esaltante perché vai a incontrare delle squadre fortissime, però dobbiamo fare un passo alla volta. E' sicuro che vogliamo fare cinque partite e poi la caratteristica di questo campionato qua è che ne fai cinque consecutive perché noi il primo giorno riposiamo e quindi anche lo scoprirci e lo studiarci, noi anche dal punto di vista dello staff, insomma noi non solo quanto valiamo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista fisico. Il Gironi affronterete una scuola come quella sudamericana, squadre brasiliane, squadre argentine. La sua scuola però ci arriva in buonissime condizioni fisiche e mentali a questo appuntamento? Sì, fisiche sicuro, mentali penso di sì, insomma come vado ripetendo, insomma io ho a disposizione dei giocatori non solo bravi ma con già un curriculum, una storia e dire che io abbia già in mano la conoscenza di questi ragazzi sarebbe per me proprio presuntuoso, insomma. Mi sembrano tranquilli e motivati, questo è sicuro, poi dopo è un qualcosa che scoprirò in Brasile. L'ultima cosa, cosa chiede ai suoi ragazzi, la prima cosa che chiederà ai suoi ragazzi prima di scendere in campo nella prima partita? Di andare con l'atteggiamento che hanno dimostrato in queste partite qua, sempre quello dell'andare a cercare la vittoria in tutti i costi come ha fatto a Padova e anche con la mentalità dell'apprendimento. Noi stiamo lavorando su certe cose, non tantissime, però su certe cosine ci stiamo lavorando, adesso avremo un periodo solo gioco, niente allenamenti, anche attraverso le partite dobbiamo migliorare, dobbiamo alzare il nostro livello e quindi dobbiamo farlo anche in quel momento in cui il gioco ti stressa perché sei sotto al punteggio, pure è importante, pensare, non dico troppo, però una chiave, due chiave tecniche sulle quali stiamo lavorando per arrivare a toccare con mano certi miglioramenti proprio nel momento agonistico più intenso. Se noi riusciamo a portare questa cosa qui dal Brasile per me è una gran cosa perché ci apre poi dopo più possibilità in Superlega.